salve amici e benvenuti nel mio canale loliotube 75 e come sempre vi ricordo se non vi siete ancora iscritti di iscrivervi e mettere un bel like al video mentre stavo visionando uno dei centinaia video di questa inutile e sanguinosa guerra mi sono imbattuto in questo video dove si vedono dei soldati mercenari e fino a qui tutto normale tra virgolette ma ad un certo punto ho visto una cosa un po' strana ragazzi facciamo partire il video l'hai visto? adesso rimando di nuovo ad un certo punto sullo sfondo si vede un'ombra semi trasparente che cammina e poi ritorno indietro ma puoi sparire nel nulla l'ombra sembra quasi dissolversi ragazzi fatemi sapere nei commenti cosa vi sembra se soltanto un soldato che cammina e un effetto strano della telecamera oppure qualcosa d'altro